Il grande futuro di Giuseppe Catozzella questo mio contributo e questo mio video è anche un po' un aiuto per i miei alunni delle mie classi prima e terza che dovranno fare un compito di italiano su questo libro mi scuso con tutti quelli che magari vedranno questo video penseranno ad una recensione ebbene questo video così come tutti i video comunque di questo canale ha un fine essenzialmente didattico vuole essere d'aiuto anche a quei ragazzi che hanno delle difficoltà anche difficoltà di lettura certe volte e quindi sappiate che ho questo taglio particolare non sono qui per invogliare alla lettura sono della casa editrice per cui faccio un lavoro di trailer del libro no, è evidente, no faccio un lavoro di un insegnante che vuole aiutare i suoi studenti a capire un testo che libro è il grande futuro? è un libro anzitutto di un autore di cui abbiamo letto già un altro anno un altro bellissimo libro che è Non dirmi che hai paura e anche a chi ha scritto soprattutto questi quattro libri importanti Alveare in cui denuncia l'infiltrarsi dell'andrangheta a Milano e addirittura anche Giuseppe Catozzella è stato minacciato per questo Non dirmi che hai paura in cui racconta la storia di questa podista che poi ha avuto tutta una vicenda molto particolare e c'entra anche la vicenda dei migranti perché anche lei a un certo punto ha deciso di attraversare il Mediterraneo con tutti i problemi e i rischi che questo comporta il grande futuro che è questa riflessione, questo libro che ci aiuterà a riflettere ad esempio sul fondamentalismo islamico spesso violento e Tu Splendi che è l'ultimo che invece è ambientato in Basilicata Giuseppe Catozzella scrive su numerose testate ha pubblicato libri in versi come La Scimmia altri romanzi come ad esempio Espianti Alveare da cui sono stati tratti molti spettacoli teatrali un film appunto di denuncia su questa infiltrazione dell'andrangheta ad esempio nel nord Non dirmi che hai paura dicevamo tradotto in tutto il mondo vincitore dai premio strega giovani 2014 finalista premio strega in generale del 2014 di cui in lavorazione un film Giuseppe Catozzella è anche Goodwill ambassador dell'ONU ecco questo è il nostro video che abbiamo fatto leggendo l'altro anno con un'altra classe questo importante libro non dirmi che hai paura sulla vicenda di questa podista africana che si trova già su Youtube sulla copertina del libro Grande Futuro c'è questa sorta di introduzione Amal Amal è il nostro protagonista che poi però in realtà ha anche altri nomi Ali in modo particolare Amal nasce su un'isola in cui c'è una guerra tra l'esercito regolare e i neri mi piace molto considerare questo testo come un testo che si può leggere un po' avulso dalla situazione del corno d'Africa si può applicare anche a tanti altri contesti pensate ad esempio la Siria piuttosto che insomma altri stati in cui c'è ed è presente purtroppo il fondamentalismo islamico pensate alla Jihad al Califato i neri infatti spesso hanno queste insegne nere da una parte pensate all'esercito regolare dall'altra i governativi soldati che in una mano impugnano il fucile e nell'altra il libro sacro i neri ma anche i governativi tante volte infieriscono sulla popolazione Amal è l'ultimo figlio di servi pescatori e migliore amico di Ahmed che invece è figlio del signore del villaggio quindi sono di due classi sociali diverse Amal e Ahmed eppure sono molto amici tra di loro da piccolo una mina lo sventra in petto e ora Amal che in arabo significa speranza porta un cuore non suo cioè stato sottoposto a un trapianto tra l'altro lui che è così radicalmente musulmano ha ricevuto la donazione da una piccola bambina diciamo cristiana Amal e Ahmed si promettono in pieditura amicizia si perdono con i loro sogni in mezzo al mare fanno progetti e dividono le attenzioni dell'affezionata Karima vivono un'atmosfera sospesa quasi fiabesca che si rompe quando le tensioni che pesano sul villaggio dividono le loro strade chi l'avrebbe mai detto all'inizio del romanzo che poi le loro strade si sarebbero così divise in questo nuovo clima di conflitti e di morte anche Asim il padre di Amal lascia il villaggio portando con sé un segreto inconfessabile che viene svelato alla fine del romanzo rimasto solo Amal chiede ancora una volta il conforto e la saggezza del mare e il male il mare scusate gli dice che deve raggiungere l'imam della grande moschea del deserto e di riempire il vuoto con un'educazione religiosa e questo è una cosa molto bella ci sono dei personaggi c'è un personaggio in particolare molto positivo questo imam che rappresenta un islam moderato un islam che disdegna la guerra Amal diventa preghiera puro islam resiste alla pressione dei reclutamenti resiste finché un'ombra misteriosa ed erelitta riapre in lui una ferita profonda che lo strappa all'isolamento allora si lascia ruolare la religione si colma di azione ma è proprio questo l'unico destino consentito qual è il bene promesso l'avventura di vivere finisce davvero con la strage del nemico questa l'introduzione che lascia tanti interrogativi tante domande che poi uno leggendo il romanzo vedrà vedrà che potranno essere potranno trovare una risposta forse su un sito web su un blog c'è una interessante recensione che noi adesso leggiamo Il grande futuro libro del 2016 nuovo romanzo di Giuseppe Catozzella ma poi c'è stato E tu splendi che è quindi più nuovo del grande futuro Giuseppe Catozzella già vincitore nel 2014 del primo strega giovane con Non dirmi che paura è un libro che vi ho già detto vi consiglio assolutamente di leggere in questo romanzo Il grande futuro racconta la storia di Ali è questo tale dicevamo Amal si chiama anche Ali un ragazzino che racconta un ragazzino come racconta lui stesso nel romanzo nato due volte la prima dalla propria madre e la seconda dopo un grave incidente che viene narrato nel primo capitolo del romanzo per tutto il romanzo il protagonista rimarrà Amal cioè Speranza ci sono tanti nomi arabi insomma che sono presenti in questo libro e che rappresentano un po' questo interesse per questa cultura diversa dalla nostra ci fa capire che dobbiamo avere un animo aperto insomma a conoscere l'altro quel nome Amal che gli viene dato quando a causa dello scoppio di una delle innumerevoli mine in un campo di una terra d'Africa non ben specificata viene gravemente ferito ma sopravvive anche se parte del suo cuore una valvola almeno è sostituita con quella di una bambina cristiana come può lui Ali devoto ad Allah portare in sé anche una piccola parte del cuore di un nemico di cristiano il nemico è la mamma Fatima a fargli accettare la nuova realtà a sussurrargli che non conta una valvola ma la filtra il soffio divino che ci anima e fa aspirare alla pace ecco il grande sogno la grande speranza che queste forti tensioni religiose possano smorzarsi perché noi portiamo in noi stessi qualcosa dell'altro bellissima questa immagine no? pensate per esempio quando pensiamo alle nostre religioni di come siano strettamente collegate fra di loro noi portiamo qualcosa degli altri i cristiani portano in sé qualcosa degli ebrei degli arabi così continua la vita di Ali anzi di Amal come viene chiamato dopo questo episodio che partiene a una povera famiglia di servi e pescatori vive in condizioni di miseria pur coltivando una stretta amicizia con Ahmed che è ben più ricco di lui nel villaggio sul mare si respira già l'aria in altri luoghi ben più acre e cruenta della guerra a sfondo religioso tra l'esercito regolare i governativi e i neri i fondamentalisti nonostante ciò Amal Ahmed e l'amica Karima crescono condividendo tanti sentimenti esperienze adolescenziali giochi divertimenti lo splendido e contaminato mare ma anche il primo amore qualche litigio il nuovo cuore di Amal batte e sussulta come gli altri ma ogni tanto incespica un pochino quasi a ricordargli l'antico boato che tanto in lui aveva cambiato quella mina che l'aveva quasi ucciso quel ragazzino sempre alla ricerca della propria identità si pone seppur adolescente tante domande cui danno una risposta a persone di rilievo o anziani del villaggio Raja la vecchia strega dice al ragazzo che lui come aveva fatto il suo antenato Ali Ionus c'è tutta una storia anche negli antenati di quel villaggio il guerriero leggendario porterà la guerra ai 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 c'è un qualche cosa però nella quasi profeticamente insomma nelle origini di di Ali Amal che lo porterà alla guerra volente o non volente l'imam Tarif invece dicevamo quella splendido personaggio di grande moderazione invece seda le sue paure ed ha una risposta al suo desiderio di sfuggire a un infelice destino di servo e dice bellissime parole di Tarif volevo solo ricordarti che la felicità è un diritto di tutti Amal ricorda queste parole qualunque cosa accada alla tua giovane vita hai diritto alla felicità se la cercherai lei si farà trovare da qui il dibattersi di pensieri e sentimenti nell'animo del protagonista che ormai ha poco tempo per vivere momenti spensierati eventi imprevisti cambiano la vita Amal dopo che il padre il suo padre e il migliore amico lasciano per motivi diversi il villaggio si ritrova senza due importanti punti di riferimento e al cospetto di una madre sempre più triste e avvizzita va alla ricerca di sé si rifugia innanzitutto nella moschea dove cerca un profondo contatto col suo dio Allah nella speranza di trovare la propria dimensione e realizzazione in queste pagine Catozella pone l'accento fra tanti dei principi fondamentali dell'islam che così nella sua purezza non può che essere visto in positivo eccoci quindi a scoprire che la jihad non è altro che lo sforzo per incarnare l'amore di Allah e il cari è semplicemente colui che ha imparato a memoria tutto il Corano di grandi sacrifici e devozione necessita la dottrina di Allah per essere messa in pratica in ciò si accomuna alle altre religioni che richiedono privazione e dedizione ma ciò che innalza fa correre anche il rischio di esaltarsi ed è quello che è successo in passato nelle guerre religiose di ogni credo e oggi ha luogo proprio con gli estremisti islamici Amal in seguito ad altri eventi ancora insoddisfatto e carico di quel latavico desiderio di una felicità piena passa dall'altra parte ovvero da asceta e ricercatore di pace diviene guerriero di luce entrando a far parte dell'ala estremista dell'islam quei neri di cui stavamo leggendo prima non ci sarà qui però luce bensì lutto tragedie e morte Amal non porterà come dice il suo nome speranza bensì diverrà uno fra i più temibili guerrieri solo dopo un lungo percorso di dolore Amal comprende grazie a Maria la giovane mite e dolce che gli viene data in sposa che neppure quella è la strada giusta per cambiare ci vorrà il coraggio di un ragazzo cresciuto troppo in fretta è la dolcezza di una moglie che porta in sé un segreto il futuro è lì ad aspettarli basta non ricusare il passato non respingerlo accettare chi è differente da noi ecco quindi terminiamo la lettura di questa ottima recensione con il commento che hanno fatto su questo sito ripeto il sito sololibri.net ed è un commento positivo che non può essere che positivo anche il mio Giuseppe Catozzale infatti ha scritto uno splendido romanzo di formazione formazione di un uomo formazione di un ragazzo che diventa uomo dopo tutta una serie di esperienze che di certo è insolito per il dipannarsi degli eventi narrati ma che tocca tante tematiche oggi più che mai attuali dicevamo appunto soprattutto questa tematica della lotta armata del fondamentalismo dell'estremismo islamico delle quali sentiamo parlare ogni giorno ma sempre allo stesso modo con la stessa angolazione questa volta facciamo un'operazione diversa proviamo a immedesimarci in uno di loro in uno di quelli che sono i nemici perché così è successo adesso vedremo a Catozzella l'autore non fa così si esprime a 360 gradi perché ci mostra la realtà da più punti di vista inoltre fa ruotare l'intera narrazione sul costante conflitto che è in noi sulla continua ricerca di una felicità che non sentiamo di possedere padroni o servi noi siamo eppure molto spesso la felicità e il grande futuro si realizzano come nel romanzo attraverso un solo mezzo l'amore ecco qui per esempio stavamo parlando dell'amore di Amal per Maria e di Maria per Amal che alla fine porta un importante cambiamento appunto diciamo a compimento questo processo difficile di formazione all'inizio del romanzo campeggia una citazione dal Corano che dice proprio chiunque uccida un uomo sarà come se avesse ucciso l'umanità intera e chi ne abbia salvato uno sarà come se avesse salvato tutta l'umanità è un verso che a un certo punto quell'imam di cui abbiamo parlato prima Tarif recita ricorda Ad Amal e se l'avesse insomma capito e appreso e assimilato subito questo versetto del Corano forse non sarebbero successe certe cose che poi succedono ma ecco adesso spiego e ho scritto in questa slide attenzione che da adesso in avanti siccome ripeto questo è un contributo didattico allora voglio spiegare il titolo come mai si chiama il grande futuro e quindi voglio spiegare il messaggio fondamentale del romanzo e quindi ho dalla prossima slide in poi ho praticamente scannerizzato l'ultimo capitolo del romanzo che si intitola appunto il grande futuro così si capisce bene perché ha questo titolo il romanzo anche se non dirò nulla degli episodi più coinvolgenti e sorprendenti che accadono nel penultimo nel terzultimo nel quartultimo capitolo per evitare di fare uno spoiler indesiderato invito chiunque voglia godersi tutto il gusto della suspense della narrazione a interrompere qui la visione del video semmai tornarci dopo aver finito la lettura per confrontarsi con il mio commento e la mia recensione che hanno uno scopo didattico e sono fatti soprattutto per i miei ragazzi di prima e di terza che insomma poveracci devono preparare un compito in classe su queste cose e allora voglio un po' aiutarli ok? grazie ecco dicevamo siamo nelle ultime pagine del romanzo il capitolo 39 l'ultimo si intitola appunto il grande futuro andai da Maria dolcemente la svegliai ecco infatti dobbiamo sapere una cosa molto molto interessante che questo libro è narrato in prima persona è narrato da Amal in prima persona e questa è una cosa un po' sconvolgente perché cioè ci medesimiamo in lui che ne fa insomma ne fa di cotte di crude ne fa insomma di molto violente cose cose molto molto violente come vedrete e leggerete comunque ci medesimiamo in lui il grande cambiamento avviene grazie a una donna avviene grazie a Maria e lui ritorna nella sua isola con il do che è praticamente un'imbarcazione dopo dopo tutto quello che è successo andai da Maria dolcemente la svegliai non ci fu stupore nei suoi occhi mi abbracciò e mi tenne stretto per attimi infiniti Maria la chiamai e ora che andiamo prendi ciò che ti serve ritorniamo verso casa Maria si tirò su dal letto e mi guardò con gli occhi grandi dove andiamo Amal vieni via da qui e dove torniamo a casa quale casa chiese la mia giovane sposa la nostra la casa dove tu sei nato Amal si quella casa sarà la nostra casa Maria non parlò poi domandò e cosa ci troveremo in quella casa Amal ci troveremo il futuro Maria ecco qui abbiamo già questa parola chiave che ritorna in questo ultimo capitolo che è un capitolo pieno di speranza perché dopo tutte le brutte esperienze anche che ci sono state prima finalmente abbiamo capito come è importante ad esempio la pace costruire sull'amore e loro sono coinvolti in vicende molto molto tristi tragiche violente dicevamo però c'è a un certo punto Amal andiamo via da qui Maria raccolse le uniche due cose che voleva portare con sé un velo nero e il rosario io imbracciai due fucili uno sulla spalla destra l'altro sulla sinistra ecco ovviamente l'amore si mostra anche in questo incontro di culture incontro di religioni io imbracciai due fucili uno sulla spalla destra l'altro sulla sinistra perché abbiamo detto che Amal è un guerriero comunque ne passai uno a Maria era meglio ne tenesse uno con sé eravamo in piedi il lumicino che aveva rivelato il mio segreto era ancora acceso ecco questo segreto non ve lo svelo perché abbiamo detto che vi lascio il gusto insomma di scoprire di quale segreto si tratta svelato nel capitolo precedente quello micino avrebbe continuato a bruciare finché la vita gliel'avrebbe concesso due passi e saremmo stati fuori dalla tenda avvolti nelle ombre della notte Maria prese il fucile e lo calcò in spalla qual è il nostro futuro Amal chiese piano il nostro futuro è grande Maria mi parve di sentire un rumore a provenire da fuori eravamo immobili fantasmi neri in una notte grande come l'universo attese in silenzio quando fui sicuro che non ci fosse nessuno ripresi a parlare il nostro è un grande futuro Maria il nostro è un grande futuro ecco in realtà a dire la verità non è così determinato chiaro è il futuro però ripeto se tu hai a fianco a te una persona che ti vuol bene e tu vuoi bene a questa persona sei sicuro che sarà grande questo futuro devi solamente adesso disfarti di questa violenza di questo pregiudizio quindi lasciarti alle spalle questa brutta esperienza che hai vissuto è questo quello che accade a Amal e a Maria scavalcamo la recinzione fumo fuori nel silenzio il mondo sapriva tutto davanti a noi sterminato pieno di promesse a volte da un sole che allora soltanto faceva intendere che sarebbe rinato ci fidammo per venti giorni io e Maria camminavamo scusate prima non mi ricordavo ma proprio all'inizio di questo ultimo capitolo siamo ancora lì in questo posto che è praticamente l'accampamento dei neri no? cioè l'accampamento dei fondamentalisti degli estremisti ma le rivelazioni che ha avuto Amal nel capitolo precedente mi hanno fatto capire che non è quello più il suo posto mi hanno fatto capire che ha sbagliato tutto quando ha deciso di abbracciare la causa dell'estremismo via scavalcamo la recinzione fumo fuori nel silenzio il mondo sapriva tutto davanti a noi sterminato pieno di promesse ecco dicevamo per venti giorni io e Maria camminammo dormimmo dove trovammo da dormire sotto piante accoglienti o sotto il cielo infinito attraversiamo un campo di beduini in cambio d'acqua cibo e ristoro lasciamo uno dei due fucili da guerra ci concessero il letto più comodo dopo tante notti per terra ci fu di conforto all'inizio hanno due fucili poi di uno se ne disfano perché non è più così necessario quell'arma che è stata così letale e insomma anche il nostro Amal l'ha usata e poi vedrete insomma perché come e cosa è successo con queste armi il ventunesimo giorno erano lontani dalla sua terra ma Amal decide di ritornarci definitivamente il ventunesimo giorno a piedi raggiungemo un grosso villaggio il mezzogiorno era appena trascorso sono nel continente un camion carico di carbone stava per partire avrebbe tagliato il deserto dopo due giorni di viaggio sarebbe giunto al mare alla grande città non lontano dal villaggio in cui ero nato è lì la meta dove stanno andando Amal e Maria mostrammo il secondo fucile l'autista ci accosse con un sorriso due giorni dopo fumo nella grande città in cui mai ero stato che sempre mi era apparsa vasta come il mondo intero a questo proposito dobbiamo dire che nel romanzo non ci sono diciamo i nomi i posti non vengono nominati noi sappiamo poi da una serie di indicazioni che leggeremo alla fine che questa grande città potrebbe essere Mogadiscio la capitale della Somalia però potrebbe essere anche una qualsiasi altra grande città dell'Africa o addirittura del Medio Oriente da allora il mondo era sorto e tramontato dentro di me compiendo il suo giro infinito l'autista ci lasciò in uno spiazzo per camion si trattava di raggiungere il molo ci avviamo a piedi non ci fu bisogno di domandare la direzione mi bastò seguire il profumo del mare era il mio mare quello l'avrei riconosciuto a chilometri di distanza Maria non l'aveva mai visto il mare non sapeva riconoscerne l'odore proprio dal momento peggiore si può dire della sua vita è capitato ad Amal di incontrare questa donna e da lì poi è cambiato tutto e qui poi il desiderio di ritornare nella sua terra dopo aver fatto tutte queste esperienze con un cuore nuovo quello stesso pomeriggio fumò al molo tante volte l'avevo visto dal mare una sola dalla terra dallo stesso punto in cui adesso ci trovavamo era stato in uno dei momenti più difficili e promettenti della mia vita quando avevo lasciato il villaggio per la grande moschea cioè quella fase della vita di Amal in cui come abbiamo spiegato lui ormai non aveva quasi più nessuno diciamo nel suo villaggio ed era andato alla ricerca di se stesso anche attraverso la grande moschea quindi anche una esperienza religiosa non ci viene in mente Siddhartha di Hermannès per esempio certamente questo l'abbiamo detto è un romanzo di formazione nel vedere il mare Maria rimase a fissarlo senza trovare le parole per chiamarlo rimanemmo al molo per ore niente infatti avevamo più da scambiare insomma come fa cioè i due fucili sono stati dati uno ai beduini l'altro all'autista non hanno più niente non saranno neanche come arrivarci in quest'isola è un romanzo di formazione come i promessi sposi dove Maria fa un po' come la nostra Lucia da con lei che che aiuta l'uomo a maturare a capire se stesso a superare anche i suoi limiti i suoi sbagli non ha nome mi disse Maria ad un tratto mentre fissava la vastità dell'acqua il mare li contiene tutti questo è il mare che mi parlava le risposi e questo mare ora sta parlando a me disse Maria e sta dicendo che dentro ti porta un figlio l'unica volta che i nostri corpi si erano uniti avevano generato bellissima questa cosa qui no scoprire che la tua donna sta aspettando un bambino no che ha avuto quando quando l'amore si è si è espresso così eh profondamente no fra i due l'unica volta che i nostri corpi si erano uniti avevano generato un figlio Maria guardava dritto al mare non dentro ai miei occhi sarà maschio e lo chiameremo futuro e quindi come vedete un'altra declinazione della parola chiave di quest'ultimo capitolo cioè anche il figlio che mascherà sarà il futuro no disse come se lo sapesse da sempre e mai dovrà conoscere ciò che abbiamo conosciuto noi quindi diciamo l'abisso della violenza del male lo promisi fu a te che lo promisi futuro ah ecco quindi questo libro lo si può anche leggere come una sorta di diario che il padre Amal affida al figlio per raccontargli quello che gli è successo chiunque uccida un uomo sarà come se avesse ucciso l'umanità intera e chi ne abbia salvato uno sarà come se avesse salvato tutta l'umanità dice il Corano noi abbiamo salvato te futuro ho dovuto perdermi guidato dalla condanna del mio mezzo cuore kafir per incontrare tua madre ah sì insomma diciamo che come ho spiegato anche prima c'è tutta una storia che riguarda la predestinazione di Amal c'è dentro una parte sua che era una parte buona e che quindi prometteva bene prometteva pace e un'altra parte invece che prometteva guerra è tutto insomma si è un po' realizzato e mescolato è effettivamente questa strana doppia predestinazione si è realizzata in lui mi sono smarrito e mi sono ritrovato tu sarai futuro e sarai salam la pace evidentemente la parola salam in arabo significa pace oh quindi siamo dovuti passare attraverso la guerra ma alla fine del libro siamo arrivati finalmente a questa grande speranza questo grande futuro la pace tu tu figlio mio sarai la pace avevo ritrovato il mare quello mi aveva generato discendenza guarda caso quando lui ritrova il mare sua moglie e Maria dice che aspetta un bambino era forse il suo regalo per tutta quella lontananza forse il mare è stato lui a donare a fare questo bellissimo regalo ad Amal attendemmo ore al molo stretti come una cosa sola finché un mercante di capre che col do abbiamo spiegato che il do è l'imbarcazione ogni giorno faceva la spola tra la città e l'isola a consentire a portarci anche se non aveva più niente da dargli in cambio disse avrebbe avuto la nostra compagnia era storpio mai nessuno nella vita gli aveva voluto parlare soltanto le capre le prime nuove compagne del nostro viaggio anche qua vengono in mente i promessi sposi quando per esempio un traghettatore porta Renzo da una parte all'altra dell'Adda e insomma è il momento di una nuova vita e alla fine non hanno più niente sono completamente nullatenenti Amal e Maria eppure c'è qualcuno che li può portare sull'isola per il semplice fatto che ha bisogno di compagnia umana sul cammo l'oceano che tante volte avevo attraversato con Ahmed l'orlo irregolare e meraviglioso delle mie isole macellerò il cuore sarebbe l'oceano indiano quello sul quale si affaccia in parte la Somalia il mio cuore pacificato era in attesa di tornare a casa tanto quanto me forse più ancora di me la mia isola si faceva sempre più vicina il dough del mercante la barca del mercante di Capre procedeva veloce il vento arrivava dalle spalle le vele erano aperte come orecchie d'elefante io avrei voluto rallentare per arrivarci il più tardi possibile era l'incontro col mio passato e insieme col mio futuro quello che mi attendeva quello che ci attendeva attendeva me ma anche Maria e il bambino che era dentro il grembo di Maria lentezza serviva per metterli d'accordo è il lavoro del ricordo la fabbricazione nella mente dei volti un tempo conosciuti l'attesa dei nuovi alla moschea avevo imparato il SAR il SABR la pazienza l'avrei usata questa pazienza certo ritorno nel paese chissà magari anche dovrà subire non so la curiosità o le domande di quelli che aveva conosciuto e poi aveva lasciato però insomma ha imparato la pazienza e userà la pazienza anche per le eventuali difficoltà che ci saranno nella vita da ora in poi il peggio è passato no? ricordate il sugo della storia dei promessi sposi poi arrivammo la prima a scendere fu Maria rimasi in piedi in mezzo al do in mezzo all'imbarcazione ecco la mia spiaggia ecco la mia isola ecco il molo da cui Ahmed era partito il suo grande amico che poi insomma ecco non vi dico tutto da cui tutto era cominciato niente era cambiato tutto era come era stato lasciato arriva c'erano due o tre bambini che giocavano con una palla cercai di riconoscere in loro me e Ahmed Karima ma troppa vita era passata tra le acque di quella risacca Maria era tranquilla sorrideva fece la conoscenza della mia isola e del mio villaggio come se da sempre fossero stati anche suoi la presi per mano ci incamminammo sulla stretta via in salita che portava a quella che era stata la mia casa alla destra e alla sinistra era tutto conosciuto sembrava essere rimasto fermo in attesa del mio ritorno le prime case di cui tutto sapevo alla sinistra lo slargo della grande piazza ora vuota dove mille volte da bambino avevo giocato continuiamo a salire per il viottolo di terra battuta e insomma ritrova la sua terra la sua isola più o meno come l'aveva lasciata è qualcosa che è rimasta nel suo cuore no? la mia casa era a qualche centinaio di passi sulla destra lì avrei trovato la mia amaca la fiera Fatima c'è sua madre forse seduta a terra là davanti a trafficare coi suoi oli passammo davanti a una bassa casa di legno che non ricordavo era stata costruita di recente qualcosa è cambiato ma poco la porta era spalancata come sempre al villaggio davanti una tenda sottile per tenere lontano le mosche dentro passando scorgemmo un profilo di donna gravida e due bambini su un giaciglio passammola davanti diretti alla mia casa alle nostre spalle dimmo una voce disse qualcosa che non colsi l'istinto fu quello di girarmi così fece Maria ci voltammo la donna era ora in piedi sull'uscio di quella casetta e mi nominò dalla mia casa soltanto due svolte ormai ci separavano la mano che stringeva a Maria si fece dura come una tenaglia ah lì è tornato gridò davanti a sé la donna gravida fu al villaggio e fu a nessuno ecco come abbiamo detto infatti Amal ha due nomi Amal e anche Ali la guardai i due bambini furono tra le sue gambe gemelli veloci sbucarono fuori dalla porta oltre la tenda a guardarmi era il mio primo nome quello che aveva gridato a tutti e a nessuno carima dissi la donna sorrise era bella e fu come non essere mai partiti così termina il romanzo del grande futuro con una riscoperta con una bellissima come dire con un rivedere una grande amica quella grande amica che loro lui e Ahmed avevano anche amato molto e scoprire che è diventata una donna che ha dei figli quindi fu come non essere mai partiti c'è subito qualcosa che rende nuovamente ospitale quella terra quell'isola se la sente sua e da adesso in poi ci saranno sicuramente difficoltà ma si potranno superare perché c'è una grande speranza per il futuro dai veramente bello il finale di questo romanzo come tutto questo romanzo in generale dopo queste ultime parole con le quali si chiude il romanzo ci sono delle annotazioni finali che vogliamo leggere la prima annotazione ci apre un mondo no cioè scopriamo che questa storia non è una storia che Catozella si è inventata ma gliela ha raccontata Ali che quindi è una persona in carne ed ossa che ha raccontato la sua esperienza grazie quindi lui dice anzitutto a lui ad Ali per avermi raccontato della sua vita tutto ciò per cui ha trovato le parole per raccontarla oggi Ali dedica le sue giornate a tenere i bambini del villaggio lontani dalla guerra cioè è una storia vera ed è una storia lieto fine perché Ali ha capito che ha sbagliato insomma quando ha pensato di risolvere le cose con le armi anzi adesso tiene i bambini del villaggio lontani dalla guerra è bellissima questa questa cosa e ancora Giuseppe Catozella scrive quest'ultimissima pagina delle annotazioni in fondo al libro è dal 2012 che sono immerso in questi temi da quando per la prima volta sono stato nel deserto al confine tra Somalia e Kenya per vedere con i miei occhi lui immerso molto più di noi ma tutti quanti noi uomini di questo tempo immersi in queste tematiche in questi temi e tante volte anche con molti pregiudizi ma lui è andato proprio a vedere con i suoi occhi queste cose a conoscere l'altro il nemico il diverso e ha scoperto che quest'altro questo nemico questo diverso l'ali per esempio di questo romanzo forse è un po' come noi e forse ha sbagliato sicuramente però può anche redimersi i ringraziamenti finali di Giuseppe Catozella grazie ad Alessandra Morelli di una organizzazione una di queste organizzazioni che operano là in Africa per avermi ospitato all'interno del campo ONU di Mogadiscio e per avermi fatto capire cos'è la guerra tra i neri e i regolari quindi anche questa guerra insomma è purtroppo ahimè qualcosa di di vero di reale grazie a LM di cui non si dice quindi nome e cognome ma solo gli iniziali del governo Somalo per essersi impegnato a trovare un modo per mettermi in contatto con Atom ex capo degli Shabab che ora collabora col governo quindi Shabab sono questi fondamentalisti estremisti grazie ai due ufficiali di African Union e della missione AMISOM per avermi illustrato le strategie dei regolari che come abbiamo spiegato questi governativi anche loro tante volte quando arrivano nei villaggi ne combinano grazie a Citi per aver mediato per farmi incontrare un altro ex combattente oltre ad Ali grazie a D'Antonella Palmieri per aver condiviso con me le sue ricerche sul campo le sue riprese grazie a Human Rights Watch per le informazioni che mi ha dato sui bambini soldati e infatti concludiamo questo nostro contributo video dicendo che una delle tematiche importantissime che vengono affrontate in questo romanzo è proprio questa dai bambini soldati questi bambini che sin da piccoli vedono spesso con un grande come dire entusiasmo affascinati sono dalle armi e quindi da queste da queste lotte e quindi poi dopo imbracciano troppo presto i fucili sono diventano mezzi strumenti certe volte anche perdono la vita per questi per portare avanti queste lotte violente ed estremiste sono purtroppo realtà queste tremende che che non possiamo misconoscere che dobbiamo conoscere perché nel nostro mondo vengono anche queste cose e quindi questo libro veramente ci fa conoscere tutte queste realtà però come avete visto abbiamo soprattutto voluto leggere il brano che dà una sorta di speranza proprio perché non ci si fermi alla violenza allo sfruttamento dei bambini soldato all'estremismo al fondamentalismo ma che si possa ricominciare dagli aspetti positivi che pure ci sono nell'islam perché abbiamo detto che l'islam se loggiamo bene il corano ci insegna questo ci insegna la pace e lo sanno questo lo sa la maggioranza degli arabi che sono moderati che vogliono la pace che vogliono l'amore l'amore è davvero come abbiamo visto una chiave che ci permette di risolvere la nostra vita questo sia un insegnamento per tutti altri video didattici su a tuttascuola.it a tuttascuola.it a tuttascuola.it a tuttascuola.it a tuttascuola.it